L'osso sottepitrocleare è una neoformazione ossea della grandezza variabile da un grano di miglio a un nocciolo di ciliegia, di forma rotondeggiante, a struttura spongiosa ben definita, situata nell'insinatura formata da trocla ed epitroclea. È asintomatica e si riscontra nell'1% dei radiogrammi del gomito. È incerto se costituisca un nucleo accessorio o un sesamoide.